Ciao amici, provando un bello vestito per uscire di cheso, lino benvi, parliamo ora di WWE 2K Battlegrounds, videogioco ludico che andrà a sostituire WWE 2K21 che purtroppo non è rientrato nei piani della 2K. Ok, innanzitutto questo gioco uscirà domani, venerdì 18 settembre 2020 per le piattaforme PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Google Stadia. Ovviamente genere wrestling, origine USA, sviluppo cyber interactive, pubblicazione 2K games, giocatore singolo ma anche multigiocatore, DualShock 4, Gamepad, Joy-Con, tastiera, Blu-ray disc, DVD, digital download, PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo eShop, Steam, ISRBT. Oh, innanzitutto vogliamo dire che io qui da Wigitalia vedo dalle informazioni dei roster, per quanto riguarda gli uomini abbiamo, sempre che nel gioco ci siano, A.J. Styles, Akira Tozawa, Elisabeth Black, Apollo Crews, Big E, Big Show, Bobby Leggley, Braun Strowman, Bray Wyatt, Brock Lesnar, Cesaro, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Elias, Eric Rowan, Finn Balor, Jeff Hardy, John Cena, Kalisto, Carl Anderson, King Corbin, Kevin Owens, Kofi Kingston, Lindsey Dorado, Luke Gallows, Demi, Sartreuth, Randy Orton, Ray Mysterio, Ricochet, Robert Roode, Roma Reigns, Samoa Joe, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Triple H, Xavier Woods, Donia, Alexa Bliss, Alicia Fox, Aska, Bailey, Becky Lynch, Beto Phoenix, Bribella, Carmela, Charlotte Flair, Amber Moon, Liv Morgan, Mandy Rose, Mickie James, Naomi, Natalia, Naya Jax, Nicky Bella, Nicky Cross, Ronda Rousey, Sasha Banks, Stephanie McMahon, Leggendi, Andre the Giant, Edge, Al Kogan, Jake the Snake, Roberts, Mankind, The Rock, Sage Slaughter, Shawn Michael, The Undertaker, Yokozuna. Per quanto riguarda le arene, sembra che ci siano Raw, SmackDown, NXT, Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania, Bootcamp, Militare, Detroit, Autoshopped, Evergates, Messico Arena, New York Beat, Scotland Arena. Bene, quindi, per questo video è tutto, ricordo il videogioco disponibile da domani, venerdì 18 settembre. Amici, per questo momento preciso della giornata è tutto, appena renderò, arriverà il video per quanto riguarda NXT UK pronto al rilancio già da oggi, con una nuovissima e fresca, fondata dopo mesi e mesi di stop a causa del covid. Io vi ringrazio, buona la prossima, ciao!